Ciao ragazzi, benvenuti in questa sorta di video vlog barra acquisti. Sarà un video un po' diverso dagli ultimi che ho caricato, sia perché non parliamo esclusivamente dell'attacco dei giganti, sia perché è un video un po' più naturale, sono senza copione. Per chi non lo sapesse, tutti i video sull'attacco dei giganti, sia dei capitoli sia degli episodi, sono scritti appunto il giorno prima con un copione e poi registrati e poi montati. Non ho tantissimi acquisti, alcuni di questi sono regali, ma partiamo subito con un DVD dell'attacco dei giganti, visto che siete tutti in fissa, come me d'altronde. Questo è stato un regalo molto apprezzato perché da poco sto cominciando a collezionare anche DVD, mannaggia a me, ho già preso tipo 4 DVD dello studio Ghibli per iniziare. Fortunatamente ho deciso di darmi solo i DVD e non i Blu-ray, sia perché non ho un lettore Blu-ray, sia perché andrei a spendere davvero i milioni che non ho, quindi meglio andare con i DVD. Chiaramente questo è il primo, poi mi farò anche per conto mio gli altri, visto che di Attack on Titan voglio collezionare tutto, visto che come avrete intuito sono abbastanza fissato. Tra l'altro ne approfitto, visto che per una volta posso parlare anche di altro, per ringraziarvi tutti per il supporto che mi state dando sotto i video dell'attacco dei giganti. Davvero abbiamo raggiunto i 2500 iscritti da quando ho iniziato a portare principalmente Attack on Titan e sto ricevendo davvero un sacco di bei commenti da tutti voi. Tra l'altro crescendo ho anche trovato ovviamente gente che si spammava, gente maleducata, arrogante, tutti che sono stati assolutamente bannati, visto che io vedo ogni cosa che scrivete. Però fortunatamente la maggior parte dei commenti sono molto educati, molto civili, anzi spesso si creano delle discussioni molto interessanti. Passiamo ora al prossimo acquisto, un manga. Anche questo è un regalo, ovvero il manga di Steins Gate. So che i pareri su questo manga siano molto contrastanti, io lo devo ancora leggere, sono al primo volume, a circa metà. Chiaramente è molto accelerata la storia perché tutto Steins Gate raccontato in solo tre volumi. Prima di giudicarlo devo finire, ma comunque mi fa molto piacere avere Steins Gate in forma cartacea, a poter vedere i disegni fisici, visto che sono davvero tanto 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 fan di questa serie, nonostante l'abbia scoperta da poco. Comunque sì, Steins Gate se non l'avete visto vi consiglio di guardarlo. Guardatelo in italiano, tra l'altro, visto che è doppiato davvero bene, almeno solo per Valentina Favazza, che è una doppiatrice che io apprezzo tantissimo. Tra l'altro è la stessa doppiatrice di Sasha nata con Titan, se non la conoscete bene. Comunque Dinita ha fatto un ottimo lavoro, sia col doppiaggio che con l'adattamento, quindi recuperatevelo. Il prossimo manga è un manga così, è il primo volume della Full Color di Naruto, è uscito da poco. Devo dire che io non sono un grande lettore di Naruto, anzi questa è la prima volta che leggo il primo volume. Devo dire che non è proprio il mio genere, l'ho preso più che altro per una questione culturale, se così si può dire, visto che comunque Naruto nel bene e nel male, è un manga che ha avuto una grande influenza, quindi mi sembrava giusto che lo recuperassi per capire un po' com'è. Questa è un'edizione che devo dire è abbastanza buona, decisamente molto sopra le edizioni medie della Planet Manga, ha colori, la carta è discreta, insomma non è male e costano 6 euro l'uno. Passiamo ora però al prossimo acquisto, un altro acquisto mio, ed è un altro cofanetto della G-Pop, ovvero Tokyo After Hours. Questo cofanetto devo dire che l'ho copiato praticamente al buio, cioè l'avevo visto da qualche parte, mi ispirava, non avevo la più pallida idea di cosa parlasse, di quali fossero i generi, anche se un po' si intuiscono dalla copertina, e devo dire che leggendolo completamente in blind, non sapendo nulla, sono rimasto molto piacevolmente compito. Tanto che ho anche scritto e anche registrato da un po' una recensione di questa serie, che editerò e pubblicherò più avanti, non so benissimo quando. Il prossimo periodo temo che sarò un po' impegnato, quindi è probabile che magari se salta un video, metterò questa recensione che è già pronta per sostituirlo. Comunque è un manga molto valido, ve lo consiglio, vi lascio qua la recensione per quando sarà pubblicata, se non la vedete perché non è ancora stata pubblicata, o perché me ne sono dimenticato, ma spero fortemente di no. Passiamo ora al prossimo acquisto, che è il penultimo, prima del pezzo grosso che avrete già visto in copertina, che non è esattamente né un manga, né ha qualcosa a che fare col mondo manga-anime propriamente, però sono sicuro che è una cosa che a molti fan del Giappone può interessare, ovvero questo libro si chiama Washoku, anche questo è un regalo, è un signor libro essenzialmente sulla cucina giapponese. Insomma, se siete appassionati di sushi ramen e varie cose della cucina giapponese, ve lo consiglio perché è un libro molto dettagliato, ci sono davvero un sacco di foto molto belle. E niente, pian piano lo sto recuperando e spero di riuscire un giorno a cucinare qualcosa, ma dubito perché qua non arrivano nemmeno gli ingredienti per fare queste cose, quindi. Prima di passare al pezzo grosso, vi invito, se non siete ancora iscritti, a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace a questo video se vi sta piacendo, anche perché per il futuro del canale ho in mente un bel po' di progetti che potrebbero interessarvi. In questo periodo, come chi mi segue già anche su Instagram sa bene, sono molto impegnato, ma più avanti ho intenzione di migliorare non di poco la qualità del canale, sto già vedendo qualcosa da comprare, ma passiamo subito all'ultimo pezzo, il pezzo forte di questo video, ovvero la colossal edition di Attack on Titan. Ragazzi, è davvero pesante. Anche questa è un regalo, un signor regalo, aggiungerei, ed è, ragazzi, io non so se rende l'idea, ma è davvero enorme, io spero ci stia tutta nello schermo, perché è qualcosa di colossale appunto. Tra l'altro questa è la versione inglese, che preferisco molto a quella italiana per un paio di motivi. Allora, intanto ci sono più volumi, se non sbaglio quella italiana raggruppa tre volumi Tankobon per ogni volume della colossal, qua ce ne sono cinque, infatti è bella spessa. E soprattutto la qualità dell'edizione, ragazzi, onestamente è migliore, le pagine sono davvero molto più spesse, la carta sembra molto più resistente, non hai paura che ti si rompa sfogliandolo. E poi poter rivedere, rileggere tutte le scene iconiche della serie a questa dimensione è davvero molto piacevole. E devo dire che anche leggerlo tenendolo così o poggiato sulle gambe è molto meno scomodo di quanto pensassi per essere un volume di queste dimensioni, cioè. E niente, per questo brevissimo video era tutto, vi rinvito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e ci vediamo in futuro sempre per i prossimi video, come la recensione di Tokyo After Hours, varie cose sull'attacco dei giganti e così via. Intanto invece vi invito come al solito a dare un'occhiata ai video che vi vengono proposti a fianco a me nell'end card.